Ucraina, Kukiansk, nuovo crocevia della guerra. I rapporti ufficiali parlano di intensi combattimenti e bombardamenti. Le forze ucraine avrebbero condotto un'incursione attraverso il fiume de Nyev, sbarcando nella regione occupata di Kherson, a dirlo l'Institute of Study of War. La Polonia invia altre 2000 unità a guardia del confine con la Bielorussia. Anche il Ministero della Difesa russo annuncia l'arrolamento di truppe ai confini occidentali. Si rompe parzialmente una diga nel sud della Norvegia sotto il peso dell'acqua del fiume Glomma, gonfiato dalle incessanti piogge causate dalla tempesta Hans. Delude le aspettative brasiliane la dichiarazione a chiusura del vertice dell'Amazzonia, definita poco ambiziosa. Lula, la colpe anche dei paesi ricchi. Incendio in una casa vacanza in Alsazia, in Francia. I vigili del fuoco hanno evacuato 17 persone e individuato 11 corpi. Difficili le operazioni di estrazione. L'Ampedusa sono 41 di cui tre bambini, immigranti morti dopo che un barchino salpato dalla Tunisia si è ribaltato di affondato durante la navigazione nel canale di Sicilia. La città di Kupiansk sta diventando un nuovo crocevia della guerra in Ucraina. Il comando delle forze armate ucraine definisce questo settore del fronte la direzione principale dell'offensiva dell'esercito russo, con tentativi di sfondare la difesa. I rapporti ufficiali parlano di intensi combattimenti e bombardamenti. Il corso del confronto militare è stato discusso dal presidente Zelensky. La regione di Kharkiv è stata particolarmente colpita dalla guerra dall'inizio dell'invasione russa su vasta scala. Secondo i dati ufficiali, 10.000 edifici sono stati in gran parte o completamente distrutti. Durante il primo anno di combattimenti, l'ufficio del procuratore riferisce di oltre 1.700 persone uccise solo in questa parte dell'Ucraina. Grazie a tutti. 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 La memoria della Nagasaki straziata dalla bomba atomica non sfuma e nonostante la minaccia del tifone e la cerimonia di commemorazione ha avuto luogo, seppure al chiuso, come il Premier Kishida, anche il primo cittadino di Nagasaki, ha invitato gli stati possessori di armi nucleari a mostrare coraggio e a rinunciare ai principali. Grazie a tutti.